I declare that Christophe Paul Webb is duly elected as the member of parliament for the Blackpool South constituency. Boris Johnson, il laborista Chris Webb, ha ottenuto 10.825 voti, 7.607 in più del suo avversario conservatore. La gente di Blackpool South ha parlato per la Gran Bretagna, hanno detto di averne abbastanza di rishi sunache dei conservatori, ne hanno abbastanza di 14 anni dei conservatori al potere, hanno perso la fiducia del popolo britannico. Hanno detto che è tempo di cambiare, il cambiamento parte da Blackpool stasera, ha sottolineato il neoeletto parlamentare britannico auspicando che presto il cambio avvenga anche a Downing Street con il leader laborista Keir Starmer. La corsa per questo voto segue le dimissioni di un parlamentare conservatore in seguito a uno scandalo di lobbying. Il partito dei Toris sta subendo pesanti quanto previste perdite con l'arrivo dei risultati delle elezioni locali che si sono ottenute giovedì e che aumentano la pressione sul primo ministro sunache in vista delle elezioni generali. Il quadro ancora parziale del voto amministrativo sembra confermare che il partito laborista ha buone possibilità di tornare al potere dopo 14 anni e gli occhi restano puntati sulle amministrative di Londra, il cui esito che potrebbe riconfermare il sindaco laborista Sadiq Khan per un terzo mandato è atteso tra venerdì e sabato.